Tanto che abbiamo B, andiamo a dare manforte qua su A Veloci, 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 veloci Oh, questo? Boom, bitch Aiaiaia, Rigel Boom, mamma mia ragazzi, la tribola che vi ho appena portato Cioè ragazzi, vi ho fatto dei quick che Call of Duty è proprio muto Bella a tutti i compagni a quel vostro chiesa che vi parla Bentornati con un nuovo video qua su Battlefield 1 Ci troviamo con il sesto episodio di Sniperando Allegramente Hurtana? Ma, deficienti? Sono appena sparato io Io me do che è meglio Comunque ragazzi, ci troviamo nell'operazione di sanguinità Quintino che non mi ricordo se è Kaiser Clutch o come cazzo si pronuncia Comunque E guardandola un po' così, credo che non sia messo molto bene Facciamo un cecchino Preso uno Presi due Avanti i prossimi, su, su C'è un caramato qui davanti a me Ritirata strategica, ritirata strategica Ci sta un caramatino Brut e cattivo No vabbè, questo ha camperato qui ragazzi 2017 signori, guardate come giocano gli assaltatori nel 2017 Su Battlefield 1 La tua testolina a te ti salta Dai ragazzi, un po' di cazzo duro Si entra qua dentro Easy man Uno Preso Vai, questa la lanciamo qua sotto Questo la uccidiamo questi Vorrei uccidere quelle persone là Che rompono le balle al mio team Preso Guarda quanta gente c'è qua sotto Tutta bella pronta a farsi colpire Un'altra che ce la portiamo a casa Vediamo di disattivare quel cingolato Se riesco Anche se non credo di fare chissà quanto di danno E niente, primo assalto fallito Anche perché io ero entrato che mancavano neanche 150 ticket Una roba del genere Peccato, peccato Adesso ritentiamo con il secondo attacco Cerchiamo di dare anche più manforte al team Così che riusciamo a pushare meglio Ok ragazzi, eccoci con il secondo assalto Qui abbiamo, dov'è? Il nostro bel dirigibile che ora arriva a darci il supporto Ok, cerchiamo di avanzare subito con il nostro team Aspetta, l'ho visto uno qua L'ho visto, l'ho visto anch'io L'ho visto anch'io Ok, ho ucciso Ora c'è un altro Te l'ho ammazzato io Bro, scusa Volevi uccidermi, stronzo Guarda lì Quanti sono qua messi Camperatini Con il cecchino qua Mettiamo una bella granatina lì dietro Bella Double kill No, 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 no Te l'ho visto Cecchino di merda Che va a camperarsela Vaffanculo te Non ci vai a camperare Ok, abbiamo conquistato A Io adesso cerco di andare ancora come prima Sopra il fieno In modo tale che riesco Il fieno Il... Come cazzo si chiama sta roba qui? Non mi viene il nome Il... Perché sono stupido? Non mi ricordo i nomi delle cose Il... Oh, adesso starò tutto il video a Trovare il titolo per... Il titolo Il nome per queste cose Il... Mulino Mulino, ecco Tanto che abbiamo B Andiamo a dare manforte qua su A Veloci, 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 veloci Oh Questo? Boom, bitch Aiaiaia Rigel Boom, mamma mia ragazzi La tribola che vi ho appena portato Qua veramente 10 milioni di like Cioè ragazzi Vi ho fatto dei quick Che Call of Duty Proprio muto Ma dai Ci hanno riconquistato B Che sfiga Guardalo lì Che si è messo dietro il mulino Lo vedo, lo vedo L'ho hittato Bravissima Assistenza come uccisione Bella lì Ok, settore conquistato Alla grande Bravissimi Tutti quanti Cioè mi ha sparato un cicchino Non mi capisco da dove Oh mio dio Che schifo Dove stanno accamperati Quei due Guarda lì Che schifo Uno E due Guarda che ti vedo anche Adesso il tetto Imbecille di uno No, no È però dirigibile Ah no, è morto Giustamente Gli è caduto addosso un dirigibile Non so se l'avete visto Ma ci sta un cicchino lì così Gli è caduto addosso il dirigibile Poverino Zio mi puoi dare delle munizioni Per favore Grazie È giustamente Io vorrei fare il cicchino Che cosa potrebbe andare a storto Se non che arrivasse la nebbia Grazie gioco Sempre molto gentile lei Non si vede un cazzo Boom T'ho visto proprio con la coda dell'occhio Terrasso il fumo Bella lì Bo Signori Che cosa vi combina Questo King of Kids Non è te ti becchi una bella bionettata Così impari Così mi stavi sulle balle Ok No 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 Uno Mamma mia signori Cosa vi sto combinando No l'ho lanciato perché L'ho fatto enemy hit 48 Oh Gente Ok Hitato Hitato colpito Bella lì Aiuto Quante esplosioni Quante Quante Troppe Uso io l'automatico Mi 1918 Devo usare tutto il caricatore E poi lancio addosso il caricatore stesso Per ucciderlo Lui giustamente con due colpi Mi ammazza Vaffan Ho quello Ah non l'ho ucciso Ragazzi Uccido adesso Non è vero Eh lo devo uccidere con la pistolina Rip Oh mio dio Agente distesa Che palle che siete veramente E niente Abbiamo perso anche il secondo attacco Però mi pare che ne abbiamo un altro a disposizione Perciò faremo anche l'ultimo attacco Ok ragazzuoli Terzo e ultimo attacco A disposizione Abbiamo sempre il nostro bel dirigibilino Che è là Finalmente si è diradato la nebbia Posso tornare a cecchinar Normalmente Sono contentissimo di questa cosa Ah ah Camperito Camperito Che cazzo ho detto Camperato dentro la casa Preso uno Ok Abbiamo perso l'obiettivo Bravo Ma come Ne conquistiamo uno E ne perdiamo uno Ah quello è il tank Fav Sì Su quello Insomma no Io quasi quasi Me ne vado un attimino Qua sopra Preso Guardate quel cecchino là Madonna Santa Oh La gente che proprio Si mette a burdo Ma può cercare di fare Le kill a spawn kill Madonna Boom bitch Adesso ci penso io Ad aiutare il mio team Fatemi salire sulla collina Vedo già uno Boom Preso bitch Poi qua ne vedo già un altro Preso Ma non l'ho preso in testa Perché era in mezzo alle frasche Dai adesso mai più Adesso mai più Oh Guarda le persone che ci stanno qui Oh mio dio Una kill me la potreste lasciare Stronzi però Tiè Vico l'ho sabotato Dai Medico Bravissimo Grande medico Però adesso avrei bisogno di Munizio Come è morto il mio compagno Guardatelo Ma cosa Ho esso è glitchato del muro Guardalo Uno preso Ce n'è uno dietro lì Ok Ucciso E abbiamo vinto Vedete siamo sull'operazione Kaiser Clutch Come cazzo si chiama sta roba qui Ragazzi concludo quel video Perché se avrei giocato anche Amens Questo video sarebbe durato un'ora Più o meno Non so che risultato abbia fatto Perché il gioco non me l'ha fatto vedere Però l'ultima volta che ho guardato Stavo 49,7 Più o meno avrò finito su 55,8 Una roba del genere Più o meno Comunque ragazzi Se questo episodio di Sniperando Leggermente vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Un commento Dicendomi la vostra Su questo cecchino Ovvero lo Springfield 1903 cecchino Che io personalmente È il cecchino che utilizzo di più In questo titolo Perché davvero mi ci trovo benissimo È molto preciso Ha un rato di fuoco molto alto E ha una cadenza molto bassa Davvero il top Iscrivetevi al canale Se ancora non lo siete Passate dalla pagina Facebook Dal canale di Telegram Dal canale di Twitch Che trovate tutto sotto in descrizione Mi raccomando Votate in alto a destra Il prossimo gioco Che vorreste vedere Sulla serie Sniperando allegramente E niente Io non posso far altro Che ringraziarvi per avermi seguito E noi ci vediamo Con un prossimo video Sempre da Bad Company Italy